E' già scontro tra Caroline Smith e Selvaggia Lucarelli. La coreografa britannica ha dichiarato di non voler leggere il libro della giornalista. La nuova stagione di Ballando con le stelle non è ancora cominciata. Ma già ci sono delle polemiche. Questa volta non si tratta di un concorrente che litiga con la giuria. Ma di uno scontro tra due giurati. Già in passato, Selvaggia Lucarelli e Caroline Smith hanno avuto dei dissapori. Sembrava tutto risolto. Ma è evidente che tra le due donne non ci sia una grande simpatia. Come dimostrano le recenti dichiarazioni della coreografa scozzese. Uno dei libri più letti di quest'anno è stato proprio quello di Selvaggia Lucarelli. Il vaso di Pandoro, Ascesa e caduta dei Ferragnez. In questo libro, la giornalista parla della vita di Chiara Ferragni e Fedez. Con il suo solito accento critico nei confronti di una coppia per la quale ha sempre avuto parole al veleno. Sembra che Caroline Smith non sarà mai in grado di recensire il libro di Selvaggia Lucarelli perché non ha nessuna intenzione di leggerlo. Ecco spiegato il motivo. Caroline Smith, il libro di Selvaggia Lucarelli. Ormai ci siamo. Millie Carlucci è pronta a presentare il cast di Ballando con le stelle. Con l'annuncio di Tommaso Marini, manca soltanto un nome e l'elenco dei concorrenti sarà completo. Anche quest'anno ci saranno grandi polemiche. È inevitabile. Ma questa stagione dello show di ballo più amato dagli italiani non inizia con il piede giusto. Caroline Smith e Selvaggia Lucarelli hanno già avuto un piccolo scontro. È tutta colpa del libro di Lucarelli sui Ferragnez. In una recente intervista al settimanale mio, Caroline Smith ha dichiarato di non aver avuto il tempo di leggere il libro di Selvaggia Lucarelli. Il mio calendario è molto pieno di impegni. Preferisco dedicarmi ad una lettura che migliori me stessa. Non mi interessano le critiche. I pettegolezzi. Le diatribe tra VIP. Quindi non posso commentare perché non so nulla a riguardo e nemmeno voglio saperlo. Non sono parole al miele e sicuramente Selvaggia Lucarelli non sarà contenta di questa opinione della sua collega in giuria. Proprio alcuni giorni fa, Selvaggia Lucarelli è stata protagonista di un altro episodio che ha scatenato tantissime polemiche sul web relativamente alla sua presenza ad un festival in Calabria. Questione che ha dato seguito ad un lungo dibattito sul suo comportamento.